C'è un panorama... A me fanno un sacco male i piedi però con l'acquota andiamo bene. Siamo quasi in cima! Siamo pronti? Mi tremano le gambe! Eccolo il Brighton centrale, la seconda cima di oggi! Le mie mani sono un po' fredde! Vabbè il giovane è una passione che porta! Questa è una passione! Se cadi intanto lascio la GoPro! Bellissimo! Non abbiamo patito la quota, siamo super allenati! Insomma, perfetto! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!